Shalom, amici miei. Detesto dovervi interrompere, ma è arrivato il momento della vostra pubblica umiliazione e tutti noi stracceremo Gesù. Non era necessario. Stiamo per finire la partita. Giovanni ha quattro, Rafi ha tre e io a due. Giovanni ha una frana. Nessun punto di perdere. Senti, Aronne, noi veniamo entrambi da fuori città, mentre tu puoi giocare quando vuoi. Fa finire la partita a Gesù e a me. Io do il cambio a Rafi e Gesù prende il tuo posto. Tanto vinco io comunque. Grazie, amico. Sei migliorato un pochino dall'ultima volta? Non lo so. Non lo sai? Non ho più giocato da allora. Che cosa? Ottimo. Andiamo, non ci vorrà molto. Vincerò in fretta. Vincerò per Rafi. E dopo ce ne andiamo. Dagli soltanto un momento. Ricorda di prendere con la sinistra e poi cerca di rilanciare in fretta. Se Giovanni ne manca una, è fatta. Non prometto niente. D'accordo. Cominciamo. Pronti? Sì. Non ci è voluto molto. Sono tre. Va bene, è giusto. Era qui e poi dopo... Comunque mi sto solo scaldando. È passato qualche anno. Si vede. Ci siamo. Sono pronto. Tu sei pronto? Siamo tutti pronti. Bene? Bella presa. Grazie. Era fuori campo. Fuori campo. Sono quattro, ora sono quattro. Vi chiedo scusa, Ronne, ma forse avremmo dovuto rifiutare l'offerta di Lazzaro, non credi? Tranquillo. Solo... Va bene. Concentrati. Prova a far perdere Giovanni, così arriviamo secondi. Lazzaro deve aver fatto molta pratica. Non ne ho bisogno. Avanti. Tre, quattro, quattro. Ora giochiamo. Presa. Finalmente. Oh, sì! Gran bella partita. Gran bella partita. Fantastico. Scusa, Ronne, non è il mio forte. È chiaro. Ma voi altri, non fate tardi stasera. Gesù leggerà le scritture e terrà il suo sermone. Quello è il suo forte. Volevo dargli soltanto una lezione di umiltà. Non era necessario, però. È servito. Sì, invece. Vi saluto. A stasera. Shalom, amico. Shalom. Shalom. Grazie. 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 Grazie.